La tua banda suona il rock La tua banda suona il rock è il titolo del primo concorso per gruppi rock della provincia di Ravenna organizzato dal PC e dall'Afficicidio Alfonsine nella prima metà di aprile Il Dancing Mille Luci ha accolto ben 12 gruppi della zona che hanno portato in pubblico la loro musica per farsi conoscere e perché no, per vincere il primo premio la produzione di un 45 giri in mille copie La manifestazione si è svolta in quattro serate nelle prime tre si sono esibiti quattro compessi per volta il gruppo migliore di ogni serata votato da una giuria e dal pubblico ha trovato l'occasione di esibirsi nuovamente alla finale che ha visto così tre validi gruppi in competizione agguerrita gli Otherways di Ravenna i Secret Storm di Alfonsine e The Rollins Band di Alfonsine tra questi giovani sono emersi quelli che hanno accolto i favori maggiori per la loro bravura e per il sentimento che riuscivano a trasmettere con le loro cantoni The Rollins Band è il nome del gruppo che fra tanta emozione si è classificato al primo posto e questa è la loro bellissima musica The Rollins Band di Alfonsine The Rollins Band di Alfonsine La tua banda suona il rock è stata vinta dai Rollins Chiamerei quindi Rollins tutti qui sul palco per fargli dire qualcosa Direi che vi siete meritati di incidere un disco Io volevo ringraziare tutti perché non pensavo di vincere Grazie Grazie veramente Il microfono mi mette un po' in marasso Niente Io ringrazio tutti quelli che non hanno votato per noi Quelli che non hanno votato per noi Così imparano se altra volta votare per noi C'è Simone che vuol dire qualcosa Ha già ricevuto un grosso colpo Non riesce più a... Grazie a tutti E anche troppo Mirko Volevo ringraziare tutti quelli che hanno votato per noi Abbiamo avuto molto pubblico Siamo andati bene Marco Io sono stato a casa di Ingita per venire a questa manifestazione E ce l'abbiamo fatta Grazie a tutti i miei amici E a tutti i miei parenti Ciao, grazie Gabriele Grazie di averci votato Arrivederci alla prossima volta E iniziamo ancora Grazie 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 Grazie